Cuoci il dolce piano, ascolta il panettiere, sette consigli ti darà tu, stallo a sentire, metti zucchero e aromi, uova con burro, latte e farina, metti anche un fiore giallo e così cucinerai. Cuoci il dolce piano, ascolta il panettiere, sette consigli ti darà tu, stallo a sentire, metti zucchero e aromi, uova con burro, latte e farina, metti anche un fiore giallo e così cucinerai. E così cucinerai.